Bocciata la nomina di Gabriel Zuchtrigel, direttore del Parco archeologico di Pestum, insieme a quella di altri quattro dei vinti direttori dei supermusei, a infliggere questo duro colpo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che si è scagliato contro la riforma dei musei italiani, attuata dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Ciò perché, secondo i giudici, non ci sono le condizioni per aprire le selezioni ai candidati internazionali, tra i quali rientra anche il direttore del Parco archeologico di Pestum, Gabriel Zuchtrigel, poiché il bando non ammette la partecipazione al concorso di cittadini non italiani. Inoltre, secondo i giudici, le procedure di selezione risultano essere viziate in più punti, puntando il dito contro i criteri di valutazione dei candidati ammessi dopo la selezione dei titoli al colloquio dalla quale è stato poi scelto il direttore. Infatti emerge che in alcuni casi il colloquio dei candidati sia venuto a porte chiuse, via Skype, senza la presenza di uditori estranei. Ora si tratterà di vedere se le censure del Tar resisteranno al baglio del Consiglio di Stato e si presume che il Ministero ricorrerà in appello.